A Gravina in Puglia, ogni giovedì, sarà possibile fare la spesa in quasi tutti i supermercati della città solo di mattina. A comunicarlo, attraverso volantini che ormai da giorni si vedono in città, sono i titolari degli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa, sottoscrivendo in modo congiunto e convinto l'accordo. La liberazione, gentilmente concessa negli anni scorsi dal governo Monti, ha lasciato a tutti noi imprenditori commerciali un'eredità molto particolare, ma nello stesso tempo pericolosa. Negli ultimi tempi, infatti, complice sicuramente la crisi economica da superare, si sono vesti pian piano scomparire tutti i criteri acquisiti nei decenni e tutti quei principi che una volta facevano parte delle nostre usanze e dei costumi della nostra terra. I commercianti lamentano il fatto che negli ultimi tempi sono stati costretti a tenere aperti i supermercati praticamente sempre, talvolta anche in occasioni di festività religiose molto importanti e sentite. Quindi ora, uniti, compatti e consci di dover dare una decisa svolta a tutto, hanno deciso di cominciare un percorso condiviso che porti a ristabilire alcune delle buone e vecchie abitudini, prima di tutto quella di ristabilire la chiusura pomeridiana infrasettimanale. Pertanto, a partire da oggi, tutti i punti vendita resteranno aperti solo in mattinata, proprio come si faceva una volta. I negozianti gli si dicono certi che i clienti comprenderanno e apprezzeranno quanto deciso e si augurano che anche chi non ha ancora aderito per qualche ragione all'iniziativa ci ripensi e condivida anche di questo cambiamento. Si annunciano inoltre altri passi in avanti, con l'intento di restituire lentamente un po' di moralità, smarrite in questi anni ad un mercato che cominciava a sembrare davvero impazzito.